Tra pochi giorni il Parlamento europeo potrebbe approvare un disegno di legge dannoso per l'open source e con ripercussioni per l'intera economia del paese. Non sto scherzando, non è un pesce d'aprile, state con me che vi spiego tutto e cosa possiamo fare. La Commissione europea, il 15 settembre 2022, ha pubblicato una bozza di proposta di legge chiamata Cyber Resilience Act, CRA. E moro Linux arrivi un po' tardi con questa news perché non potevi portarla un po' prima? Perché inizialmente quando hanno proposto questa bozza era presto e pensavo che l'avrebbero migliorata. Invece no. Andiamo avanti? La Cyber Resilience Act punta a migliorare la sicurezza dei prodotti hardware e software definendo metriche standard per valutare la sicurezza dei progetti e comunicando agli utenti finali il grado di sicurezza di ciascun progetto in maniera semplice. Sarebbe l'equivalente di un marchio CE sui prodotti software. L'idea è di rendere gli autori dei progetti responsabili in prima persona della sicurezza dei loro software. E sembra un'ottima idea. Il problema è che il testo non fa distinzione tra autori indipendenti, a titolo di volontariato diciamo, e giganti della tecnologia che vendono prodotti o servizi. Infatti la proposta di legge, se applicata per come è scritta, potrebbe rendere gli autori dei progetti open source responsabili legalmente e finanziariamente per il modo in cui i loro progetti sono usati all'interno di prodotti commerciali altrui. Vi faccio un esempio. Diciamo che sviluppo una libreria di logging e la rendo open source. L'azienda X la utilizza all'interno del proprio progetto senza dirmi niente, senza darmi un centesimo. mesi dopo si scopre una vulnerabilità nella mia libreria. E a questo punto io sono automaticamente, legalmente e economicamente responsabile per i danni subiti dall'azienda in questione. Capite che così non è accettabile. Il problema è che il software open source è per definizione distribuito così com'è, senza alcuna garanzia e sollevando gli autori da ogni responsabilità. L'idea alla base del free software e più in generale delle licenze open source è di rendere un pezzo di software accessibile e liberamente modificabile ed eventualmente ridistribuibile. Se una compagnia for profit decide di adottare un pezzo di software open source per svolgere le proprie funzioni o erogare i propri servizi, dovrebbe essere cura di quella compagnia mettere in sicurezza quel pezzo di software qualora ci fossero problemi e fare la dovuta manutenzione, miglioramenti e quant'altro e a seconda della licenza ridistribuirlo con i propri miglioramenti. Non è che si scrocca al lavoro altrui perché tanto è gratis e poi si pretende anche che sia perfetto. Le licenze free in particolar modo impongono proprio che chi migliora un pezzo di software e lo mette in produzione debba condividere le proprie modifiche per contribuire allo sviluppo del progetto. Questo disegno di legge è un forte disincentivo non solo per gli autori dei progetti open source ma anche per i contributori di questi progetti perché l'articolo 16 in particolare dice che chi applica modifiche sostanziali è considerato al pari dell'autore. Ora, sarebbe da capire cosa significa modifiche sostanziali. Io, ad esempio, qualche anno fa ho contribuito a XORNAL++ introducendo una funzione degli appunti riascoltabili. Quella è diventata una killer feature di XORNAL++ quindi possiamo dire che sia stata una modifica sostanziale e se questa proposta di legge fosse approvata e in futuro qualcuno trovasse qualche modo di compromettere XORNAL++ tramite la mia funzionalità io sarei imputabile per questo problema? Capite che sto già contribuendo gratuitamente ad un progetto gratuito e open source non mi viene in tasca niente quindi perché dovrei anche prendermi questa responsabilità e assumermi questo rischio? Manco mi pagassero, chi me lo fa fare? Un altro problema abbastanza grosso è che la CRA punta a limitare l'accesso a software incompleto se non per fini di testing e letto così sembrerebbe suggerire nessun software beta per gli utenti che è già un bel limite per un progetto open considerando che le fasi iniziali di alpha e di beta per i progetti open in particolare possono durare anni e nel frattempo è essenziale avere un feedback dagli utenti è semplicemente come funziona la comunità open source ma soprattutto software incompleto è una definizione piuttosto vaga che bisognerebbe capire cosa intendono perché non siamo più negli anni 80 in cui tutto il software viene scritto in waterfall e già lì cominciava a essere discussa la cosa e i progetti avevano una linea di partenza e una fine ben delineata con le metodologie di sviluppo moderno il software non è mai finito è sempre in continua evoluzione ci sono dei cicli in cui si scrive un po' di codice lo si manda a provare dagli utenti e poi si fanno successivi miglioramenti in particolare nella community open source è piuttosto frequente l'uso di build notturne le cosiddette nightly per progetti sotto attivo sviluppo in cui lo sviluppatore tramite la pipeline di continuous integration costruisce le ultime modifiche nel pacchetto e l'utente è libero di aggiornare in qualsiasi momento per provare le ultime funzionalità e ovviamente riportare i bacchi appena se ne accorge olive video editor solo per fare un esempio ha direttamente il tasto download sul sito che scarica l'ultima build app image generata automaticamente da questa pipeline di continuous integration e sono moltissimi i progetti che fanno questa cosa proprio per fornire all'utente le ultime funzionalità e avere un feedback in cambio e una segnalazione dei bacchi più rapidamente possibile le licenze attuali non impediscono questo comportamento e non restringono nemmeno all'uso soltanto di testing al limite c'è un disclaimer attenzione questo è beta software anche perché dare accesso in maniera soltanto testing vincolando non è così banale ora prima che qualcuno corra a blastarmi nei commenti dicendo che ah morro linux come sempre non ti informi dici c*****e è vero è stato introdotto un passaggio che esenta il software libero e open source sviluppato o fornito senza fini commerciali ma c'è un problema nel disegno di legge fini commerciali è definito come fornire una piattaforma software tramite la quale il produttore possa monetizzare altri servizi e questa definizione può essere applicata a numerose organizzazioni open source come la python software foundation che offre servizi a pagamento merchandising eventi o corsi di coding quello di vendere servizi a pagamento assieme a un progetto open source gratuito è il business model di quasi tutte se non tutte le realtà importanti di questo tipo che quindi non sarebbero comunque esenti dal disegno di legge ecco forse mi salverei giusto io con i miei contributi sporadici Axorn al più più finché almeno non diventa una foundation o qualcosa di importante e inizia a raccogliere fondi anzi non raccogliere fondi vendere servizi o altre cose secondo la definizione e se pensate che il problema non vi riguardi perché non sviluppate o contribuite a software open source vi sbagliate di grosso secondo la python software foundation infatti il disegno di legge presentato potrebbe comportare la dismessa di python e dei propri repository in tutta Europa perché? chiedete perché sarebbero ritenuti legalmente e finanziariamente responsabili per qualunque prodotto che include codice python pur non avendo mai percepito un centesimo dal suddetto prodotto e comunque questo è solo uno dei tanti esempi Eclipse Foundation, The Document Foundation, quelli dietro a LibreOffice e numerosi altri hanno presentato i propri dubbi sul disegno di legge in questione e la open source initiative ha già inviato un feedback alla commissione europea per segnalare queste problematiche e richiesto che venga rimossa la responsabilità degli autori che non beneficiano in maniera commerciale dello sviluppo in ultima battuta però penso che questa legge interessi tutti senza alcuna eccezione anche chi non usa software open source così facendo rischiamo di rimanere tagliati fuori a livello europeo dall'uso di un potente ingranaggio che muove l'intera industria del software le big tech e anche le PMI sinceramente sfruttano ormai da anni l'open source a proprio vantaggio per accelerare lo sviluppo dei propri prodotti o per l'erogazione dei propri servizi l'erogazione l'erogazione secondo me una manovra come quella proposta rischia di dare ai paesi extraeuropei un'esclusiva sull'uso dell'open source rallentando al contempo lo sviluppo a livello europeo e poi qui alzo le mani perché non ho letto il disegno di legge non sono un avvocato e qui si esce dalla mia area di competenza ma sarebbe il colmo se poi noi in Europa potessimo utilizzare software proprietario costruito in USA con l'uso di strumenti o componenti open source ma qualcosa mi suggerisce che potrebbe anche essere possibile essendoci un'azienda dietro che può ottenere questa sorta di certificazione CE la Python Software Foundation ha chiesto a tutti gli utenti che condividono questo sentimento di scrivere al proprio membro di riferimento del Parlamento Europeo entro il 26 aprile per esporre il problema prima che venga fatta la votazione per approvare la legge vi lascio tutti i link rilevanti in descrizione compreso quello per scrivere al rappresentante del Parlamento Europeo se avete a cuore il software libero questo è il momento decisivo per dimostrarlo potete anche allegare il mio video assieme a tutte le altre risorse se pensate che possa aiutare a chiarire la situazione non mi interessa però mi raccomando entro il 26 aprile link in descrizione ciao 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 Grazie per la visione!